Siamo in procinto, potrei dire di avere già chiuso, ma abbiamo praticamente chiuso l'accordo di partenariato, quindi abbiamo chiuso con tutte le osservazioni il nostro accordo quadro nei tempi giusti come gli altri paesi europei, facendo un grande sforzo e un grande lavoro e quindi oggi è un giorno anche di particolare soddisfazione perché l'interlocuzione con la Commissione che è cominciata già ad aprile quando mandammo la prima bozza per una iniziale discussione è proceduta in maniera molto costruttiva e posso dire adesso che è praticamente conclusa, quindi oggi è una giornata in cui le osservazioni della Commissione sono state archiviate.